brava brava grazie a tutti per averci permesso anche quest'anno per organizzare quattro grazie smora e soprattutto a questo pubblico caloroso intanto torniamo alla gara 2 ore e 34 di gara ricordo che in gara abbiamo i cammini riusciti sono presenti anche loro sta arrivando Gabriella vai a Maria eccola grazie a tutti 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 E qui abbiamo un nuvolo di Luciana, Fernanda, Irenia, Giuseppe, Laura, Patrizia, Giuseppe, Cattonello, Esten, Marchia, partimentario. Ancora, non dai, attento, Giuseppe, non ti possono ammettare i tuoi uomini. Poi, Luciana, poi Lauca, Carla e Marco. Poi, Vada Daniele, poi l'Associazione Nazionale Comunicata è della ONU, Anno, di voi, Anno. Che spettacolo, Simona. Dai, dai, che ha finita. Ho visto ce l'ho fatta? Due, una. Vai, vedi. Eccolo. Guardate il spiglio. Avete il spettacolo? Ce ne è voluto spigliare. Deve essere tutta a disposizione. Veramente, così sta crescendo notevolmente il quarto traguardo. Ecco, sta arrivando anche Alessio e Riccardo. L'arrivo di la 2.39 della presenza. Ci diamo anche tanti che sono venuti a mancare a questo quarto traguardo. Come è Claudia? Signora, signora, signora. E' un bel grande amico, c'è un bel grande amico. Sì, 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 sì. L'arrivo di la presenza. Bravo, bravo. Valeriano. Ecco. Bravo, Valeriano. Poi Elsa, Antonio. Allunga. In alto, vivo. Ah, per me. Il vostro punto. L'arrivo di la presenza. L'arrivo di la presenza. Luca. È Ernesto e Rita. Poi, anche Leonora all'arrivo, poi Maura, Tuilia, ho detto bene, molto bene, sotto l'arco e poi sotto la bandiera, vai Martina, attenzione, sta arrivando Nicola, Marco e Francesca, vai Marco. E anche dei giovanissimissimissimissimi, ecco anche un altro marchino, bravo, ma io corro, vuole vedere una proposta. Altro doveroso ringraziamento al sindaco Gian Piero Danti, comune dell'Abetone, e a Franco Ballati, presidente della Sibanoquini. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie al comune di Abetone, soprattutto a me, per la disponibilità di tutti, grazie a tutti. Grazie. Video, mixe, foto di Giusti Walter. A tutti i partecipanti, li aspetteremo per la 42esima edizione della Pistoia Betone. Signore e signori, un ciao a tutti. Grazie a tutti.